bella ragazzi bentornati sul canale quest'oggi sfida contro un freestyler e calciatore l'under 17 della nazionale georgiana ovvero nika un grandissimo talento che quest'oggi andrà a sfidarmi riguardo i trick di freestyle vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like e commentare quel trick che vi piace di più buona visione e 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 ok ragazzi spero il video vi sia piaciuto e direvi al canale lasciare un commento e lasciare un like noi ci vediamo presto al prossimo video bella ciao